E' stata inaugurata alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni nella vetrina Expo Comuni del Palazzo del Pegaso a Firenze la mostra La Via dell'Ambra Reloading delle due artiste di origine Lettona e Lolita Timofeva e Valentinachi. La mostra, patrocinata dal Consiglio regionale della Toscana e dall'Ambasciata della Lettonia in Italia, unisce nell'Ambra Gemma in grado di custodire al proprio interno microorganismi, ossigeno e piccole piante, i temi della memoria e della coscienza collettiva e quelli di attualità come l'ambiente, l'inquinamento, fino all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E' una mostra di grande spessore e prestigio ma serve anche per impostare nel contesto dell'Unione Europea quei rapporti che all'insegna dell'arte e della cultura possano creare autenticamente ponti e forme di collegamento che poi stimolano a quella integrazione europea che passa molto attraverso la cultura. La mostra, la via dell'Ambra Reloading, aperta fino al 12 novembre, si inserisce nelle celebrazioni del centenario dell'indipendenza della Repubblica di Lettonia e arriva a 20 anni dall'istituzione del gemellaggio tra Firenze e Riga che nel 2000 fu siglato proprio dall'attuale Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni.